Scattano le iscrizioni online per la scuola primaria, secondaria, inferiore e superiore. La registrazione dovrà essere eseguita da uno dei genitori del figlio che dal settembre 2015 inizierà a frequentare la prima classe. Prima di mettersi al computer bisognerà essere forniti di codice fiscale e di un indirizzo di posta elettronica al quale ricevere le credenziali per avere accesso al link del ministero attraverso il quale si potrà effettuare la vera iscrizione. Alla prima elementare dovranno iscriversi i bimbi che compiranno sei anni entro il 31 dicembre 2015 oppure tra il 31 dicembre 2015 e il 30 aprile 2016. Le iscrizioni sono aperte anche agli stranieri e senza codice fiscale. In questo caso potranno iscriversi alla prima classe delle scuole dell'obbligo o superiori tramite la creazione del codice provvisorio che successivamente verrà sostituito dal codice fiscale quando sarà disponibile. Prima di sedersi davanti ad un computer per la domanda online bisogna sapere bene a quale scuola iscrivere il proprio figlio poi bisogna collegarsi al sito www.iscrizioni.istruzione.it e seguire le indicazioni. Chi incontrerà difficoltà nella registrazione telematica potrà rivolgersi presso le segreterie delle scuole scelte per iscrivere i propri figli. Per quanto riguarda le scuole superiori a Sapri, Vallo della Lucania e Sala Consilina dove sono concentrati licei e istituti tecnici le offerte sono quelle di un anno fa. Non sono state previste istituzioni di nuovi indirizzi anche perché quelli già attivi sono vari e diversi. Si va dall'alberghiero al tecnico industriale, dall'agrario al liceo musicale, dalla ragioneria alla moda. Le iscrizioni al nuovo anno scolastico sono possibili fino al 15 febbraio. Le domande che arriveranno prima non avranno diritto di precedenza. Grazie a tutti.